Devi sapere che un famoso critico cinematografico e letterario importante italiano, Goffrello Fofi, a un certo punto ha cominciato a occuparsi del mio cinema, ha scritto delle cose importanti, ha scritto anche un paio di libri sul mio lavoro. Quindi succede che nel 1996, l'estate del 1996, Goffrello Fofi mi chiede di andare a un festival che si tiene a Palermo, un festival organizzato da Cipria e Maresco. Ora devi sapere che io ho un problema con la Sicilia, avendo fatto il militare in Sicilia io avevo cancellato dalla mia carta personale geografica la Sicilia dall'Italia, non volevo più mettere piede in Sicilia. Per cui ho detto no, io sono stato talmente male quando ho fatto il militare in Sicilia che con la Sicilia non ci volevo più vero rapporto, ma guarda è importante che tu venga a Palermo, fra l'altro non ce l'ho mai stato, io ero stato a Messina e a Catania, ma non ero mai stato a Palermo. Insomma insiste, insiste, insiste e alla fine mi convince. Mi dice ma dai fammelo come favore personale, che ci tengono tanto e Cipria e Maresco che tu venga e porta due film. Porta, Tiburzi non era ancora finito, lo stavo finendo di montare. Era appunto il 96, poi Tiburzi uscirà nel 96, alla fine dell'anno. Avevo portato il Bacio di Giuda al confortorio. Si proietta il Bacio di Giuda a Palermo, a Villa Filippina, un cinema all'aperto dove avevo organizzato questo festival. La prima sera proietta il Bacio di Giuda. Prima della proiezione con Goffredo eravamo sul cancello di questa Villa Filippina e Goffredo mi dice guarda stanno arrivando due mie amiche, due donne che stavano arrivando. Una era Letizia Battaglia, la famosa fotografa, e l'altra era una giovane, una ragazza molto giovane, tra l'altro molto carina. Per cui salutano Goffredo e poi cominciano, si entra in sala e io dico due parole prima della proiezione del film e poi parte il film. Finisce il film e alla fine del film la ragazza che era insieme alla Letizia Battaglia mi dice questo film a me è piaciuto molto, era il Bacio di Giuda, piacerebbe molto a Danilo Dolci. Io dico ma perché è sempre vivo? Per me era morto da anni, erano anni che non sentivo più parlare di Danilo Dolci. Io dico no, è vivo, sta benissimo, abita in un paesino qui vicino a Palermo e siccome per me era stato un mito nel 68 Danilo Dolci era uno dei punti di riferimento culturali della mia generazione, ho detto ma porca miseria, mi piacerebbe incontrarlo, salutare, guarda non c'è problema, io sono una sua stretta collaboratrice, se vuoi domattina io ti vengo a prendere all'albergo perché io devo fermarmi due giorni, mi chavo due serate con due film. Sta ragazza che si chiama Barbara Sorge mi viene a prendere il giorno dopo all'albergo e mi accompagna a Danilo Dolci. Danilo Dolci appena ci vede grandi feste a Barbara, e poi mi presenta e dice sai lui è un regista, lui mi guarda e mi fa, che brutta cosa. Questo è stato il saluto di Danilo Dolci, io sono sentito una merda subito su questo gigante della cultura che mi sono contro la gigante in tutti i sensi, perché l'alto due metri pesava 150 kg, una roba con degli occhi azzurri trasparenti, una roba, faceva impressione. E cominciamo a chiacchierare, cominciamo a chiacchierare e io in realtà ero incuriosito tantissimo da lui perché avevo letto anni, molti anni prima, un suo libro di pedagogia, perché lui era stato un grande pedagogo. Siccome io mi occupavo di insegnamento, ero molto attratto e incuriosito dal suo metodo pedagogico, della maieutica, per cui siamo stati tutto il giorno a discutere di pedagogia, non di cinema. Lui ci invita a pranzo, rimaniamo a pranzo con lui, cioè una cosa che doveva essere dieci minuti di saluti, in realtà si è trasformata in un'intera giornata. Io poi guardavo l'orologio perché ci volevo andare a Palermo e proiettare al film della sera dopo, no? Però questa discussione mi aveva preso moltissimo, ma aveva aperto improvvisamente tutta una serie di possibilità di uso di tipo pedagogico, che poi si svilupperanno, poi vedrò come. Per cui, quando stiamo per andar via, lui mi prende la mano per salutarmi e mi guarda gli occhi e mi dice, ma perché non rimani a lavorare con me? Io dico, come? Eh, ti trasferisci a Palermo e lavoriamo, vieni qui e lavoriamo insieme. E io dico, cioè questa cosa mi mette in crisi totalmente, no? Però faccio una riflessione e comincio a rimuginare la possibilità di poter lavorare accanto a un gigante della cultura come Danilo Dolci, ti puoi immaginare, io sono rimasto... Per cui dico, senti, ci penso, poi ti farò sapere. Per cui tu ritorno la sera, non so cosa ho detto alla presentazione del film Confortorio, proprio, pensavo tutt'altro a questa proposta di lavoro di Danilo Dolci. E questa ragazza, tra l'altro, che mi diceva, guarda, te l'ha detto seriamente, non schercava, l'hai colpito, cioè l'hai, la tua, il tuo modo di, insomma, era autentico, insomma, tu pensaci. Per cui, guarda, è stata una, per me tornare a Pisa, pensarci, chiude casa, ripigliare l'aereo e tornare in Sicilia, è stato un tutt'uno e sono tornato in Sicilia e ho vissuto un anno e mezzo fino alla morte di Danilo in Sicilia con Danilo Dolci. Che anno era? Era il 66-67, lui è morto nel dicembre, nel 30 dicembre del 67, per cui io per un anno e mezzo ho lavorato con Danilo Dolci. Quindi tu, ora, questo tuo inciso è stato un po'... No, ma è importante, è importantissimo, perché la premessa segreti di Stato. Allora, cosa succede? Io, tra l'altro, avevo il problema... Quanti anni arrivi? 66, facciamo un calco. Avevo 50 anni, sono del 46. 20 anni. Come 20 anni? 46, 56. Oh, 46, 56, 66. Tu mai hai detto 66? No, ho detto una stupidaggia, 86, era il 1980, 96, scusa, 96, 1996. Cioè, avevo girato nel 1988 avevo presentato il bacio di Giuda. Nel 92 avevo presentato Confortorio, nel 92, nel 94, nel 96 avevo girato Tiburzi e subito dopo aver finito il montaggio di Tiburzi ero venuto a fare questa rassegna a Palermo, per cui ci avevo ancora da finire lavorazione di Tiburzi. Infatti io facevo avanti e indietro con Roma perché ci avevo da chiudere il film Tiburzi, che poi ho presentato a Locarno. Per cui facevo un po' avanti e indietro, però ormai mi ero trasferito a Palermo e mi ero fidanzato con quella famosa Barbara Sorge che mi aveva fatto conoscere Danilo Dolci, tra l'altro. Quindi vivevo in casa di Barbara Sorge. Quindi dolci uomo di cultura e poi dolci pensieri con Barbara Sorge. Sì, ma questo però, va beh, comunque sì, va beh, è andata così. Che vuol dire? Che avevo 50 anni. Avevo 50 anni. Adesso avevo 50 anni. Cosa succede? Che a un certo punto Danilo Dolci mi dice voglio vedere i tuoi film e mi ha spiegato una cosa importante. Io non amo il cinema, non ho la televisione, non vedo il cinema, perché il cinema è uno strumento di dominio. Di qualche senso? Sì, perché siccome lo chiamano strumento di comunicazione di massa, non è vero nulla, è una balla. È una balla che il sistema politico e culturale ha inventato, ma non esiste affatto che il cinema sia uno strumento di comunicazione di massa. È uno strumento di trasmissione di massa, perché è unidirezionale. Comunicare viene dal latino comunere, che vuol dire mettere insieme. Ma il cinema non mette insieme. Il cinema parte da qua e arriva là. Non c'è ritorno. Quindi è uno strumento facilmente utilizzabile per condizionare le coscienze di milioni di persone. È uno strumento fondamentale per il dominio. Quindi bisogna stare molto attenti. a come usare questo strumento. Perché è un'arma. Non è uno strumento pacifico. È un'arma. È tanto più potente la televisione del cinema. Perché ha una maggiore quantità di spettatori che rimangono attratti. E lui ha scritto un libro intitolato La comunicazione di massa non esiste. E poi ha scritto un libro da trasmettere al comunicare. E ha fatto tutta una riflessione su questi principi. Però dice, siccome mi sembri una persona sincera, onesta, eccetera, voglio vedere i tuoi film. Perché voglio capire. Per cui li proietto i miei film. Il film è il basso di Giuda. Quando finisce il film è il basso di Giuda. Dice, il tuo film è un film trasmissivo, non può altro che essere un film trasmissivo. Però ha una qualità. È maieutico. Dico, che vuol dire? È maieutico perché produce parto di pensiero. Cioè il tuo modo di comunicare attraverso le immagini, attraverso i suoni, permette allo spettatore di pensare e di riflettere. E di entrare in, come dire, in relazione critica. Non impone, ma stimola la provocazione critica. Non ci avevo mai pensato. Ma per me è normale. Io ho imparato al cinema a farlo così. E dico, ma a te non ha mai visto nulla di cose, di altri film. No, no, io al cinema, forse da ragazzino sono stato al cinema. Dopodiché, quando ho capito che il cinema era uno strumento pericoloso, ho smesso di andare al cinema. Poi vede il secondo film, Confortorio, e ne rimane ancora più colpito. Questo è ancora di più, è ancora più evidente il tuo modo di costringere lo spettatore a pensare e a riflettere. Questa cosa mi interessa moltissimo. E mi capita, ci aveva sulla scrivania un manoscritto suo, dove lui stava scrivendo una cosa. Io avevo letto Francesco D'Assisi sulla foderina di questo manoscritto. Dico, ma cos'è quella cosa lì? Sto scrivendo un libro su Francesco D'Assisi. Ah, dico, ma sai che Roberto Rossellini ha fatto un film straordinario su Francesco D'Assisi? Dico, no, non lo sapevo. Allora, siccome te mi dici che io faccio un film che sviluppa il pensiero, io questo cinema fatto in questo modo, l'ho imparato da Rossellini, di cui sono stato assistente. Cioè, questo sistema di comunicare e non di trasmettere, io l'ho imparato da lui. Per cui, secondo me, dovresti vedere i film di Rossellini? Non ha visto nulla di Rossellini, non conosceva nulla. Allora, io dico, guarda, senti, io vorrei che tu lo vedessi. Fammelo vedere, se ritieni che sia interessante. Vado a Roma da Maurizio Ponzi, che aveva una collezione di film incredibili, e dico, mi pare un duplicato della cassetta di Francesco Giullare di Dio de Rossellini. Mi fa questa cassetta, io torno a Palermo, gliela porto, e impazzisce. Dice, ma io ho perso delle cose importanti, io devo vedere. Insomma, praticamente, lui tutti i giorni, io li portavo i film e lui li guardava. Dice, questo sì, questo no. Cioè, in qualche mese lui ha fatto una cultura sul cinema, il cinema utile e il cinema inutile. Il cinema utile e il cinema utile. Quando ha capito che il cinema utile poteva esprimere un problema che lui si portava dietro da anni, da decenni, e che non era mai riuscito a comunicare. Dico, te, mi disse un giorno, te devi fare un film su Portella della Ginestra. Io dissi, Portella che? Che roba è? Non sai cos'è Portella della Ginestra? No, non so cos'è Portella della Ginestra. Allora ti faccio vedere. Monta in macchina, se adesso andiamo a Portella della Ginestra, e saliamo sulla montagna verso Piana degli Albanesi e mi porta a Portella della Ginestra, perché è un pianoro a mille metri d'altezza da cui si vedeva tutta la parte della Sicilia verso ovest. Dice, vedi, si arriva lì in questo pianoro dove c'era stata questa famosa strage, lui nel frattempo mi ha raccontato, dice, vedi, qui hanno sparato dalle montagne, che c'è stato un incidio di contadini, di donne, bambini, eccetera, eccetera, nel primo maggio del 1947, e poi mi fa questo discorso. Vedi, col sangue delle vittime di questa strage, scusa, è nata la Prima Repubblica, è stata battezzata la Prima Repubblica, poi si gira, se vedi quella linea grigia laggiù che si vede lungo la costa del mare, quella lì è l'autostrada Palermo-Trapani, laggiù c'è Capaci, col sangue delle vittime di quella strage è stata battezzata la Seconda Repubblica. Allora, queste parole mi hanno cambiato la vita, io ho detto, quest'uomo mi sta dicendo delle cose che io non capisco, io devo capire cosa mi sta dicendo, non so nulla, non so niente, per cui lui ho detto, guarda, fammi questo favore, aiutami a capire, e lui ha cominciato a darmi dei libri, devi leggere la storia della Sicilia, devi capire la storia della Sicilia dal dopoguerra, poi mi interrogava, se l'hai letto questo libro, fammi il riassunto, mi ha fatto un culo così, io sono stato dei mesi a leggere tutti i libri, il libro fondamentale che lui mi ha dato era un suo libro intitolato Banditi a Partenico. Banditi a Partenico è un libro in cui si spiega il fenomeno del brigantaggio. Ora, siccome io avevo appena fatto Tiburzi, ho ritrovato tutta una serie di stilemi ottocenteschi, l'ho ritrovato pari pari, nella storia delle ragioni storiche del brigantaggio siciliano. Quindi ho detto, ma questo è il proseguimento del lavoro che ho fatto fino a pochi mesi fa, per cui è una cosa che mi interessa da morire. quando lui si è reso conto che io ero pronto ad affrontare dei documenti che lui aveva raccolto, il mio rapporto con Danino è stato un rapporto importantissimo che ancora mi emoziona, lui mi porta nel suo ufficio a Partenico, dove aveva un ufficio suo a Partenico, apre un armadio e tira fuori un faldone, dove fuori c'era scritto portella della ginestra. Lo apre e mi dice, guarda questa roba che c'è qui dentro. E io mi sono messo a guardare, erano le foglie strane, alcuni erano delle locandine, dove era stato scritto a matita della roba, perché la calligrafia di Danilo era terribile, per cui già interpretare la calligrafia era un problema, comunque piano piano leggo e mi rendo conto che quello che sto leggendo sono interviste, interviste che Danilo fa a delle persone. E poi mi rendo conto che la domanda era perché avete sparato a Portella della ginestra? E dico scusa ma che roba è questa? E tu mi racconta questa storia. Vedi, dice, nel 1956 io ho organizzato qui uno sciopero alla rovescia, cioè ho organizzato cento braccianti disoccupati e affamati in uno sciopero alla rovescia. Che cos'è uno sciopero alla rovescia? Eh, li ho messi a lavorare. C'era una strada tutta piena di buche dalla guerra che ancora non era stata riparata e questi con le pale picconi riparavano la strada gratuitamente. Questo era lo sciopero alla rovescia, cento braccianti a lavorare. Poi è arrivata la polizia, ha ritenuto questa una donata sediziosa e non se priva di permesso della polizia, per cui ha bloccato tutto e mi ha arrestato. Per cui mi ha portato al carcere di Lucerdone e ho fatto tre mesi di galera a Lucerdone. 1956, poi c'è stato un famoso processo, è stato difeso da Calamandrei, padre della nostra Costituzione, per cui è stato un processo che ha fatto epoca, ne hanno parlato tutti i giornali del mondo. Comunque sia, io quei tre mesi li ho messi a frutto. Siccome in carcere di Lucerdone c'erano i banditi della banda Giuliano, che avevano partecipato alla strage di portere a finestra, io li ho intervistati. Queste che stai leggendo sono le interviste che ho fatto ai banditi della banda Giuliano. Però attento, te qui adesso leggi questa roba, le cose che ritieni interessanti te le trascrivi, te le prendi, però sappi che questa non è la verità. Qui non esiste la verità, qui esiste un punto di vista, questo è il punto di vista dei banditi. Per cui valutalo come tale. Quando tu nel proseguo delle tue ricerche storiche troverai altre deposizioni, altri documenti, tieni presente che questo è un punto di vista molto particolare e troverai altri punti di vista altrettanto particolari, magari che entreranno in contraddizione con queste cose che adesso stai leggendo. Per cui hai così la possibilità di avere una sorta di equilibrio tra chi ti dice bianco e chi ti dice nero. Comunque tieni presente questa cosa. Cioè quando lavorerai, lavora sempre sul concetto del punto di vista, che non è mai il concetto della verità, ma è del punto di vista, dell'interpretazione. Poi succede che lui si ammala e muore. Chiudo un attimo questo discorso su Portere della Ginestra perché contemporaneamente io avevo con lui portato avanti anche il discorso sulla pedagogia. Cioè in quell'anno e mezzo che ho vissuto a stretto contatto con lui, io portavo avanti due progetti praticamente. Quello sul Portere della Ginestra, che lui mi aveva chiesto di fare, e quello invece che volevo fare io per acquisire i principi della pedagogia dolciana. Tant'è vero che abbiamo elaborato insieme un progetto di scuola di cinema a struttura maiertica. Quella cosa di cui parlavo ieri, perché io chiedevo ai ragazzi la fotografia eccetera, dove io non parlavo ma facevo che fossero loro a parlare, era la struttura maieutica della sua pedagogia. Un'applicazione. Un'applicazione fatta insieme a lui. Cioè con lui abbiamo proprio scritto un trattato di come doveva essere una scuola di cinema a struttura maieutica, dove l'insegnante non insegna ma provoca delle situazioni in cui costringe gli studenti a tirar fuori la propria creatività. Questo era l'obiettivo. Chiusa parentesi. Quindi io vado avanti nella ricerca e nello studio della storia di Portere della Ginestra. Comincio a cercare altri libri, altri storici che si sono occupati dell'argomento, metto insieme parecchio materiale e poi purtroppo Danilo comincia a stare molto male. Il 30 di dicembre del 1997 muore. Qui io torno a casa ma non smetto di fare questa ricerca. Con me c'era un amico collaboratore che conosceva molto bene l'inglese per cui lo chiedo di andare. Avevamo saputo che l'amministrazione Clinton aveva desegretato l'attività dei servizi segreti americani in Italia dal 1943, dallo sbarco alleato fino agli anni 50. Per cui ho mandato questa persona a Washington a vedere cosa c'era in questi materiali. e li ho portato via una marea di roba. Contemporaneamente io avevo conosciuto altri due storici di Viterbo che avevo già conosciuto precedentemente per Tiburzi. Anche loro si erano occupati storicamente di Tiburzi perché li avevo conosciuti per il film precedente. I quali si stavano guarda anche loro occupando via da caso di portare la Ginestra. Perché sono due coniugi anziani. Lui da giovane era stato l'inviato dell'unità da Viterbo sul processo di Viterbo fatto alla banda Giuliano che fu tenuto a Viterbo. insieme alla moglie e all'anziano volevano ricostruire tutta la storia della strage in parte per gli articoli che lui aveva fatto da giovane e insieme a loro siamo andati al tribunale di Roma dove abbiamo ritrovato gli scomparsi faldoni relativi al processo di Viterbo. 13 faldoni di documenti scomparsi. L'abbiamo ritrovato noi nelle cantine del Tribunale di Roma in mezzo ai topi, in mezzo al sud di ciume. C'erano queste 13 faldoni da una parte. E noi li abbiamo ritrovati. L'abbiamo presi, aperti, fotocopiati. A tre volte si trovava qualcosa di particolarmente interessante. Si fotocopiava e poi si è portato via una marea. Ci è lavorato quasi un anno nelle cantine del Tribunale di Roma. Abbiamo praticamente corrotto un uscere del Tribunale di Roma che portandoli presciutti, salami, fiaschi di vino l'abbiamo convinto a farci, e pagando ovviamente le fotocopie, a farci fotocopiare tutto quello che ci interessava. Guardando in questi faldoni a un certo punto mi rendo conto di trovare, oltre a tantissime cose importanti che c'erano dentro, trovo il famoso attestato di benemerenza, che si vedrà poi nel film, dove il Ministro Scelba dichiara che Gaspari Pisciotta, rilascia a Gaspari Pisciotta questo attestato di benemerenza, dicendo che praticamente Pisciotta lavorava per il Ministero degli interni. Il bandito Pisciotta, braccio destro di Salvatore Giuliano, complice anche lui della strage di portiere della Ginesta, lavorava per il Ministero degli interni. Siccome negli atti processuali risultava che Pisciotta questo documento l'aveva tirato fuori al Tribunale di Viterbo, era successo il pandemonio, perché ti puoi immaginare, no? E qui tutti i giornalisti sono precipitati dal Ministro Scelba e dice, ma come lei rilascia il certificato? Ah, dice, io non so nulla, no, no, questa storia, questo certificato io non ho mai sentito, mai visto, non so nulla. Il giorno dopo arriva il capitano, il generale dei Carabinieri, Ugo Luca, che era lo stesso che aveva poi fatto fuori Giuliano, vabbè, insomma, arrivava il generale Carabinieri al processo di Viterbo e dice, no, quel documento è fasullo, è falso, quella firma non è del Ministro, l'ho fatta io per convincere Pisciotta a collaborare, eccetera, eccetera, gli ho inventato sta balla, eccetera, eccetera. Io trovo il documento e lo rubo, me lo fido sotto l'amicia e me lo porto via. Torno a Pisa, vado dal perito grafotecnico del Tribunale di Pisa che conoscevo, la perita, era una donna, e mi dico, senti un po', mi fai una perizia grafotecnica ufficiale, con tanto di timbro del Tribunale, su questa firma che qui c'è scritto Mario Scelba, se è veramente Mario Scelba? E lei dice, sì, però io ho bisogno di altre firme co-eve di Mario Scelba per vedere se è lui, io che ne so. Allora io torno a Roma, vado al Ministero degli Interni, nell'archivio del Ministero degli Interni, mi fotocopio, dico, ma la posso fare in fotocopia o vuole originale? No, per la perizia mi serve l'originale e mi hai dato l'originale, per cui va bene. Per quell'altro mi bastano delle semplici fotocopie, per cui sono andato al Ministero degli Interni, degli Interni che mi sono fatto fare delle fotocopie dello stesso periodo co-eve del Ministro Scelba e l'ho portata a questa signora perito grafotecnica del Tribunale di Pisa, che mi rilascia un attestato ufficiale in cui c'è scritto che quella firma è autentica di Mario Scelba, per cui Mario Scelba diceva le bugie e il bandito diceva la verità, tanto per far capire la situazione. quindi, dopo tutto questo lavoro che è durato, dunque è cominciato nel 1996, il film l'ho girato nel 2003, non ho fatto altro che approfondire queste ricerche, per cui ho raccolto nell'arco di questi anni 20.000 documenti, perché poi è successo che nel primo maggio del 1997, con Danilo ancora vivo, siamo stati al cinquantesimo anniversario della strage di Portella della Ginestra a Portella della Ginestra, insieme, e in quell'occasione c'era il Vice Presidente del Consiglio di allora, il governo Prodi, che era Walter Vertroni, e c'era il Presidente della Commissione Antimafia, che era Ottaviano del Turco, per cui chiedemmo, Walter Vertroni conosceva benissimo Danilo Dolci, perché i suoi genitori erano molto amici di Danilo Dolci, per cui c'è stato Abraci, c'è stato un rapporto amichevole con Bertroni, e Danilo ha detto, voi dovete assolutamente desegretare tutta la documentazione relativa alla strage di Portella della Ginestra, siete qua, dovete addirittura dichiararlo che farete questa cosa, e infatti sul palco dell'occasione i due politici dichiararono che appena rientrati a Roma avrebbero desegretato tutta la documentazione segreta, ancora sotto segreto di Stato, della strage di Portella della Ginestra. E così finisce la manifestazione e questi tornano a Roma, se non che un mese dopo, nel giugno del 1997, cade il governo Prodi. Naturalmente non è stato desegretato niente, mentre è stato desegretato tutto da parte della Commissione Parlamentare Antimafia, per cui mi sono arrivati 9 faldoni di documenti della Commissione Parlamentare Antimafia. Carta straccia, non c'era niente, mi sono dovuti leggere tutto quello che c'era, tutta la fotocopia di giornali, niente, aria fritta. Nell'ultima pagine, nell'ultimo faldone, ho trovato invece la perla, la morte di Pisciotta, come è morto veramente Pisciotta. Pisciotta è stato sempre detto per tutti questi anni che era morto per una tazzina di caffè avvelenata. Non è vero niente, non è vero niente, è una balla raccontata. Lui è stato ammazzato col Vidalin, con un medicinale, che gli è stato sostituito. Questo medicinale, tra l'altro, questa storia del Vidalin era stata raccontata in un giallo di Agatha Christie. Agatha Christie aveva raccontato in un giallo che è uscito nel 1939, che se tu vuoi avvelenare una persona e fare in modo che non si scopra mai la causa della sua morte, o comunque che si confonda molto le idee, devi farle ingerire un medicinale pastoso, cremoso, che contenga della strichinina. La strichinina, dentro questa crema, non si scioglie, per cui può essere rifatta tranquillamente dalle feci e non produrre nulla. Ma se te, subito dopo aver ingerito questo impasto, ci butti una tazzina di caffè caldo, il calore del caffè scioglie questo impasto e libera la strichinina e ti fai fuori il condannato a morte. E così è stato. Per cui Pichotta è stato ammazzato con questo medicinale che gli hanno dato, che gli hanno sostituito a un certo punto, sapendo che lui prendeva questo medicinale a digiuno, prima del caffè, e poi prendeva il caffè. La cosa buffa è che quel caffè che lui aveva fatto con la macchinetta del caffè l'aveva fatta per sé e per suo padre che era in cella con lui, perché anche suo padre era in galera per problemi di banditismo. per cui lui condivideva la cella col padre e si faceva il caffè tutte le mattine per sé e per il padre. Lo zuccherava tutte e due le tazzine e poi dava una tazzina a suo padre e una tazzina aveva lui. cosa è successo? Siccome è venuto fuori che la strichinina è stata trovata dentro lo zucchero, per cui hanno pensato che lui si fosse avvelenato prendendo lo zucchero con la strichinina, il problema è che suo padre era vivo e lo era morto. Com'era possibile? C'era un'incongruenza. La strichinina dentro lo zucchero... C'è stata messa dopo! C'è stata messa dopo! No! C'è stata messa dopo! Il film mio lo spiega perfettamente come è andata la morte di Pisciotta. ti fa vedere esattamente la tempistica e le modalità della morte di Pisciotta. Se guardi il finale del film è spiegato. Quella ricostruzione precisa della morte di Pisciotta che confuta tutto quello che è stato detto sulla morte di Pisciotta l'ho trovata nelle ultime pagine, nell'ultimo volume del segretato della commissione antimafia. L'unica cosa che ho trovato. Il resto c'era nulla. C'era un'informazione importante. Assolutamente importante. Certo, ne valeva la pena perché mi fa capire che anche la morte di Pisciotta, come la strage, è prodotta da una grande regia che stava dietro le quinte. Perché per costruire, per consentire tutto questo meccanismo che coinvolgeva più persone ci voleva dietro una capacità registrica precisa. Il medicinale che è servito per fargli entrare nel corpo il veleno, cioè la strichinina, questo medicinale, che era stato preparato apposta, per cui ci erano due bottigliette di medicinale, una normale e una avvelenata, che lui per due o tre giorni prende quello, diciamo il medicinale buono, che gli aveva ordinato il medico dell'ospedale, del carcere. Il terzo giorno li sostituiscono, durante l'ora d'aria qualcuno entra nella sua cella, li sostituisce la bottiglietta già avviata del medicinale, e lui pensa che sia sempre la sua medicinale, la prende, poi ci beve il caffè dietro, il caffè li scioglie il medicinale. Ecco, ecco. Questa bottiglietta buona, questo medicinale, non quello fasullo, quello fasullo è stato preparato, ma quella bottiglietta lì, quella medicinale lì, si vendeva, non era in vendita, si chiama? Si chiama Vidalin, Vidalin, si è un ricostituente, è un ricostituente. E che ha la caratteristica di essere cremoso, di essere come una crema. E di poterci mettere dentro? Certo, la bottiglietta, la crema del Vidalin veniva tirata fuori, mescolata con la strichinina, rimessa dentro la bottiglia, per cui questa strichinina era, come dire, non entrava in circolo perché era bloccata da questa crema del medicinale. Se però te su questa crema ci butti il caffè caldo, molto caldo, una sostanza calda, una bevanda calda, il calore scioglie questa roba, per cui libera la strichinina che ti avvelena in maniera subito, proprio immediato. Questo nome Vidalin, questa bottiglietta, l'ho anche vista alla fotografia, nei documenti che ho trovato, di come era fatta questa medicinale, l'ho trovato lì, ma nessun giornale negli ultimi 50 anni non aveva mai detto che Pisciotta prendeva questo Vidalin, perché sennò qualcuno avrebbe detto ma cos'è questo Vidalin, come mai prendeva il Vidalin che non si trovava in farmacia e lui però ce l'aveva, come gli era arrivato, chi gliel'aveva dato, cioè si poteva aprire un percorso di indagini che evidentemente non voleva che fosse... Allora, ricapitolando, il Vidalin che era in vendita in tutte le altre parti del mondo in Italia era vendita soltanto presso la farmacia del Vaticano a Roma. Esatto. Se fosse stato detto dai giornali che Pisciotta prendeva il Vidalin, il giornalista avrebbe detto ma chi lo vende il Vidalin in Italia? E lo vende la farmacia del Vaticano e avrebbe fatto questo collegamento che era fuori luogo. Esatto. Ho capito. Ho capito. Ecco, però ora siamo alla tua indagine sulla banda Giuliano. Tu hai scoperto anche altre cose importanti? Certo, io ho scoperto, per esempio, una cosa che non era mai stata detta da nessuno, che più della metà dei feriti di portare alla ginestra, che ufficialmente sono 11 morti e 27 feriti. Questi sono dati ufficiali. In realtà c'è un'altra trentina di feriti, leggeri, che nessuno ha mai preso in considerazione. Perché? Perché le ferite erano talmente minime che non sono state considerate tali da poter ottenere anche dei risarcimenti. che cos'erano queste ferite? Erano ferite prodotte da microschegge metalliche. Microschegge metalliche. Nessun proiettile al mondo produce microschegge metalliche. Proiettile di fucile, di mitragliatore, di mitra, produce dei proiettili che ti si infilano. Infatti molti erano morti per i proiettili che avevano ricevuto. Solo uno di questi morti aveva le microschegge. Perché le microschegge gli erano entrate in bocca e le avevano infilato nel palato e morto di tetano 45 giorni dopo. Non è morto per un colpo di mitra. Allora queste microschegge che cavolo sono? Queste microschegge sono il risultato di tiratori scelti che lanciavano delle granate. delle granate psicologiche di cui ho trovato traccia negli archivi americani. Un attimo, granate psicologiche? Sì, che avevano la funzione di terrorismo e non di uccisione, ma di terrorizzare. Sparavano queste granate in mezzo alla folla e le granate esplodendo lanciavano in giro delle microschegge che colpivano la gente nelle gambe, nei glutei, nel sedere, nelle parti basse. E come era grande questo predettine? Come era grande non lo so, erano come delle pere lanciate con lanciagranate che arrivavano e colpivano. Quello morto di tetano era, guarda caso, davanti al palco. Il palco dove parlavano gli oratori era sopra una roccia per cui gli oratori parlavano dall'alto questa roccia. Questa era giù e guardava gli oratori. Uno di questi proiettili ha colpito questa roccia, questo sasso, che si chiamava sasso barbato. Barbato che era un... durante i Vespri siciliani era un oratore. Insomma aveva dato il nome a questo masso da cui parlavano gli oratori, sasso barbato. Questo proiettile aveva colpito il sasso e aveva rimbalzato, questa era lì davanti, e si è beccato in faccia queste schegge. Hai capito? E gli sono entrato in bocca. Un attimo, chi è che si è accorto e ha individuato queste pallottole cosiddette psicologiche? Il sottoscritto. Nelle carte americane che abbiamo portato via dagli archivi della CIA, io l'ho anche pubblicata questo proiettile, che è una piccola bomba che veniva lanciata con un fucile lanciagranate. Te l'hai fatto militare? No. Allora, il fucile lanciagranate è un fucile normale, che ha una trombetta alla fine della canna, dove ci puoi incastrare un proiettile esterno, non un proiettile dentro. Poi viene messo un proiettile senza bossolo, cioè bossolo senza proiettile, bossolo a salve, diciamo così, nel fucile, per cui l'esplosione del bossolo a salve lancia questo proiettile che è infilato nella canna. Questo si chiama lanciagranate, cioè le granate venivano lanciate, che erano granatrici di tanti tipi. C'era quella anti carro, per esempio, che li tiravi contro un carri armato. Sì, sì, questa è la conosco, però veniamo a quella lì. È praticamente una bomba che ha delle caratteristiche stranissime, nel senso che ha lo stesso rumore del fuoco d'artificio. Tutto che senti sale... Pum! Pum! Infatti i primi colpi sparati furono scambiati da tutti, i presenti di tutta la folla, per fuochi d'artificio. Infatti la gente si deve applaudire, pensavano che fossero fuochi d'artificio per la festa del primo maggio. Invece erano i colpi di quelli che sparavano, di questi tiratori scelti che sparavano queste granate in mezzo alla folla. Ecco, perdonami, siccome è un'informazione straordinariamente nuova, almeno per me... Certo. Tu hai trovato scritto e citato il nome di questo tipo di arma o è una deduzione... No, 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 io l'ho pubblicato. Ho pubblicato nel mio libro Segreti di... perché io ho fatto anche un libro oltre il film, Segreti di Stato, io ho pubblicato alcuni documenti trovati a Washington, alcuni documenti. Tra questi documenti ho pubblicato anche l'immagine di questo proiettile. Sì, ma voglio dire, in questi documenti è citato il fatto che siano state lanciate... No, 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 che siano state lanciate a portare alla gerenza. No, quella è una mia deduzione. Cioè, se io trovo che una trentina di feriti che non sono mai stati elencati tra i feriti ufficiali, ma che esistono, i cui abbiamo trovato i referti medici presso l'ospedale di Palermo. Nomi e cognomi mai citati fino a quel momento, che io mostro tra l'altro nel mio film, dove c'è scritto che hanno estratto microschegge di metallo dalle gambe, dai glutei, dai piedi, dai calcagni. Più quello che ha ricevuto queste microschegge in bocca e morto di tetano 45 giorni dopo, io ho dedotto che, visto che i servizi segreti utilizzavano queste famose bombe psicologiche che avevano queste caratteristiche, ho dedotto uno più uno fa due. Cioè, c'erano sicuramente dei tiratori che riuscivano a 300 metri di distanza a lanciare del mucchio della folla questi proiettili che esplodendo lanciavano in giro queste microschegge di granata. Ho capito. Diciamo, è un'intuizione tua. È un'intuizione provata, però il fatto che questi feriti ci siano e siano documentati, è la riprova che la mia intuizione, se non era lanciare... La cosa interessante è che quello che è stato colpito in bocca era, allora, questo è il palco. Qui c'è la folla, qui c'è gli oratori sopra il palco. Il tizio è davanti al palco e guarda gli oratori e riceve questo colpo in bocca. Questo colpo che ha colpito il masso, questo masso, è stato sparato alle spalle di questo personaggio, che è arrivato, è colpito lì, è rimbalzato e l'ha preso in bocca. Questo posto da cui è arrivato questo proiettile è esattamente opposto a quello dove stava Giuliano, che era dall'altra parte. Cioè, Giuliano e la sua banda erano di qua. Per cui non lo può aver sparato Giuliano in quel colpo. E poi Giuliano si sa benissimo quanti erano e che armi avevano. E nessuno di loro aveva lanciare granate. Per cui coloro che lanciavano le granate erano dalla parte opposta di Giuliano. Per cui non c'era soltanto Giuliano a sparare, ma c'era qualcun altro dall'altra parte. Quindi c'era, come dire, un rinforzo, oltre alla banda Giuliano, che sparava sulla folla. E questo rinforzo sparava delle strane munizioni, strani esplosivi, che lanciavano schegge di... Micro schegge di granate. Ecco. Questo è quello che ho scoperto io. Cioè, la novità... Fino a quel momento nessuno su portella della finestra aveva detto questa cosa. La tua novità è questa qui, le lancia granate psicologiche. Esatto. Esattamente. Le granate psicologiche, quella microscopica... E comunque, e comunque ti dirò di più, che nel... come si dice... Nella sentenza finale del processo di Viterbo, di cui ho tutta la documentazione, c'è scritto, ma ha buttato lì come una frase... si dice anche che ci furono delle esplosioni di granate. Cioè, ma ha buttato lì, cioè, no, no, senza approfondimento. Ecco, dalle tue ricerche, allora ti faccio una domanda più precisa. Sì. I gruppi di fuoco che hanno sparato a portella della Ginezza? Erano quattro. Quattro. E chi erano? Era. Giuliano, che era in un punto in alto, su delle rocce del monte Pelavet. Poi c'era, che si chiamano postazioni alte, poi c'erano le postazioni basse, dove c'era un altro gruppo, sempre della banda Giuliano, cappeggiato da un bandito che si chiama Salvatore Ferreri, che era un infiltrato della polizia, che era dentro la banda Giuliano. Poi c'era, su un altro punto che si chiama Cozzo Valanca, c'era un gruppo di mafiosi, quattro mafiosi, che sparavano anche loro. E poi alle spalle c'erano questi misteriosi tiratori scelti sul Cozzo Dushai, che è dall'altra parte. E al centro di tutta questa roba c'è il sasso barbato e la folla intorno che riceve esplosione. Ora, però, la cosa interessante è che Giuliano, la banda Giuliano, quella mattina, prima della strage, aveva fermato quattro ignari cacciatori che stavano passando di lì. Li hanno fermati, li hanno levati fucili e cartuccere e li hanno ottenuti prigionieri, loro, lì, dove erano Giuliano con la banda. Questi cacciatori, dopo la fine della sparatoria, quando Giuliano e la banda se n'è andato, gli è stato restituito le armi e le cartucce, dicono, andate via, andate via. E non hanno fatto nulla a questi quattro cacciatori. Per cui questi quattro cacciatori sono stati testimoni fondamentali per raccontare, uno, quanti uomini era formata la banda Giuliano, cioè dodici uomini in tutto. Due, che armamenti avevano. E gli armamenti erano di due tipi. C'erano gli armamenti di quelli che stavano con Giuliano sui roccioni del Pelavet. Erano moschetti 91 o mitragliatore fucili e mitragliatore Breda. Armi che avevano proiettili calibro 6,5. Poi c'era il gruppo della banda Ferreri che invece avevano mitraveretta che avevano armi calibro 9. Ferreri, come ho detto, era un infiltrato della polizia. Guarda caso, i morti e i feriti di Portella sono stati colpiti da proiettili calibro 9 e non da proiettili calibro 6,5. Quindi Giuliano, in una sua lettera ufficiale che ha mandato, lui dichiara di aver dato ordine ai suoi uomini di non sparare sulla folla ma sparare in alto, sopra la testa della folla. E qui però devi vedere il film, perché non ti fa raccontare tutto il film. Perché tutto questo lo spiega in maniera didatticamente precisa. Per cui se alla luce di quello che abbiamo detto riguardi il film con attenzione, troverai che tutto ha una sua logica. Perché Giuliano non spara sulla folla ma spara sopra la testa della folla? Perché invece Ferreri spara sulla folla? Cioè la strage vera è stata compiuta da Ferreri, infiltrato della polizia, e dai tiratori scelti che erano dall'altra parte. E i mafiosi? I mafiosi in realtà hanno ammazzato gli animali perché erano più vicini dove la folla aveva gli asini e i cavalli. Infatti furono ammazzati anche dei cavalli che però erano più vicini ai mafiosi. Un ragazzo è stato ferito a un piede da un mafioso e sono stati riconosciuti, nome e cognome quei mafiosi. Sono stati riconosciuti ed erano i mafiosi di San Giuseppe Iato, mafiosi di San Giuseppe Iato, riconosciuti il nome e cognome, Giuseppe Troia, cioè i nomi di questi qua. Poi è arrivato a Scelba e ha detto no, no, non è vero niente, questi erano, non c'entrano nulla. Insomma, questi erano stati già arrestati dai carabinieri e poi il ministro Sceme l'ha fatto liberare perché ha dichiarato che questi erano. Cioè quelli che hanno sparato le granate. Il gruppo dei mafiosi. Ah, i mafiosi. No, il gruppo dei tiratori scelti è un gruppo misterioso che non si sa da dove è venuto, chi erano, da dove erano, però erano personale altamente specializzato dal punto di vista militare. Perché per sparare e colpire un obiettivo a 350 metri di distanza bisogna essere bravi, bravi, bravi. Io ci ho sparato col braccio granate. E no, è un fucile che quando spari e vuoi colpire un oggetto lì devi calcolare la parabola perché spara in maniera parabolica. Allora chi ha fatto l'affermazione che trattavasi di uomini della decima massa è arbitraria? È arbitraria nella misura in cui gli unici che durante la seconda guerra mondiale avevano esperienza di lancio granate. Il lancio granate era uno strumento che avevano gli americani. Quando furono presi i prigionieri a Ostia, a un certo punto furono presi i prigionieri degli americani che erano arrivati vicino a Roma, ci fu tutta una storia. E i tedeschi li torsero tutte le armi. Tra queste armi c'era quest'arma particolare che a quel tempo non era in uso nell'esercito italiano né nell'esercito tedesco. E scoprirono la presenza di queste armi. E le furono consegnate diverse di queste armi alla decima massa. Infatti ho trovato delle fotografie in cui si vede uomini della decima massa che si allenano con l'uso della lancia granate. Ed è pubblicata nel mio film. Per cui da questa cosa, visto che i servizi segreti americani in funzione anticomunista già utilizzavano fin da allora uomini ex fascisti coinvolti, soprattutto uomini della decima massa. Se ti ricordi nel mio gioco delle carte che si vede a un certo punto, spiego come si collega Juno Valero Borghese e la decima massa ai servizi segreti americani che a quel punto diventano funzionali e funzionanti anticomunista. Per cui ho fatto due più due fa quattro. È una mia ipotesi. Tanto è vero perché è un'ipotesi. Perché tengo a precisare che il mio film, laddove è documentato, mostra degli attori che recitano. Ricostruisce, cioè, delle situazioni drammaturgicamente realistiche. Quando invece lavora su delle ipotesi, mostra dei disegni. È come se tu hai un mosaico dove mancano delle parti e le parti, diciamo così, mancanti sono state ricostruite ipoteticamente, ma in maniera evidente, attraverso un segno grafico. Questo è stato il mio modo di operare. Ecco, abbiamo parlato… Perché nella storia a volte trovi delle cose precise e a volte trovi dei buchi. La funzione dello storico è quello di offrire delle ipotesi di raccordo che servono per collegare il punto A con il punto C con un'ipotesi B che possa creare un senso di continuità. E' quello che ho fatto io. Si, interpolare in modo ipotetico. Esatto. Abbiamo parlato del contenuto del film. Ora, come è nata la produzione e poi la messa in opera, la messa in scena, la narrazione, la regia del film? Allora, il film per me era un film molto difficile, non mi potevo permettere di fare contemporaneamente il produttore e il regista. Non ce la facevo fisicamente a occupare tutte e due i ruoli. Quindi ho detto, chi può essere interessato a… visto che avevo comunque ottenuto come produttore il finanziamento ministeriale, 2 miliardi di lire. Ho cercato un produttore, sono andato alla Fandango. Ho detto, mi interessa, questo c'è 2 miliardi. Mi organizzate la produzione del film? E la Fandango? Che cosa vuoi di più? Cioè, ti porto sul piatto 2 miliardi. Di nuovo, che anno era? Era il 2002, l'anno prima di girare il film, nel 2003. Quindi tutta la parte produttiva e organizzativa è stata fatta da Plocacci per la Fandango. Per cui ho avuto solo il problema di girare il film. Per me finalmente giro un film con un produttore vero, una roba vera, che magari poi mi distribuisce anche, no? Cosa succede? Che già il produttore mi dà ben 6 settimane di lavorazione e io dopo 5 settimane gli consegno il film finito. Già questa cosa crea nella Fandango un minimo di sgomento. Perché la prima volta che succedeva, che di solito è il contrario, no? Il produttore ti dà qualcosa di meno, di meno ti serve, poi ti devi mettere in ginocchio. Dammi qualche giorno in più, no? E invece io gli ho dato una settimana prima. Quando il film è finalmente uscita la copia ho fatto una proiezione per la produzione, per Plocacci, no? Quando Plocacci ha visto il film aveva le lacrime agli occhi, era entusiasta, era emozionatissimo, un film straordinario, bellissimo, ma ha abbracciato, ha abbracciato, ha voluto fare una seconda proiezione, ha chiamato tutti gli impiegati della produzione a vedere il film. Il film è meraviglioso, stupendo. Per cui io ero al settimo cielo. Nel frattempo era successo un'altra cosa, che l'avvocato, che è un po' il protagonista del film, quello che fa l'indagine, non è una figura inventata, è una figura vera. Cioè i personaggi del film, che non hanno un nome, in realtà sono tutti personaggi storici veri. L'avvocato era l'avvocato Crisa Fulli. Noi ora stiamo saltando la realizzazione del… Sì, no, ma il film presenta dei personaggi. Quei personaggi che si vedono nel film sono tutti personaggi veri, che hanno un nome e un cognome. L'unico personaggio inventato è il perito collaboratore dell'avvocato. Mi serviva un personaggio che permettesse all'avvocato di… Una controparte. Una controparte, esatto. Poi per il resto gli altri personaggi, il professore alla fine che fa il gioco delle carte, sono tutti personaggi veri, che hanno un nome e un cognome. Sono nel film e non li faccio per casini vari. Poi è successo che un giornalista di Repubblica, non mi ricordo che è un critico, che ha visto il film, mi chiese, ma questo avvocato, ma chi è? E io non glielo voglio dire. Poi si stessi, no, ma te mi dici che sono tutti personaggi veri, non mi dici il nome di questo avvocato? Mi scappo detto. Era l'avvocato Crisafulli. E io ho letto i documenti dell'avvocato Crisafulli, per cui ho ricostruito le sue inchieste, le sue ricerche, dalle documenti che aveva lasciato l'avvocato Crisafulli. Perché l'avvocato Crisafulli era così… Perché era l'avvocato di alcuni membri della banda Giuliano e voleva capire esattamente cosa era successo a Porta della Ginestra, che era una chiave di lettura completamente diversa quella ufficiale, per cui voleva capire. E infatti è l'avvocato che fa le sue indagini, che scopre le bombe. Lo faccio scoprire all'avvocato che va nell'archivio e apre le cartelle con i referti medici e fa vedere la radiografia di quello che è ferito. Sì, questa non la ricorda. Esatto. Questa cosa che io faccio sto nome, Crisafulli, mi arriva una telefonata. Pronto, buongiorno, sono l'avvocato Crisafulli. Io rimango sconvolto. Sì, mi dica. Sì, so che lei ha fatto un film dove parla di mio padre. Allora ho capito che era il figlio. Mio padre è mancato tre anni fa, per cui se è possibile vorrei vedere il film. Io chiamo Procaccio, mi senti, ha telefonato il figlio dell'avvocato Crisafulli e vuole vedere il film. Per cui sono venuti lui, suo fratello e la madre, la moglie del mio protagonista, praticamente, a vedere il film. Alla fine del film piangevano tutte e tre. Tutte e tre. Erano commossi. Erano commossi perché io avevo ricostruito il personaggio di Crisafulli in maniera impeccabile. Cioè, i personaggi somigliano. Pisciotta, somiglia a Pisciotta. Tant'è vero che Pisciotta non ci è dovuto quando fa vedere il famoso documento filmato da Scelba. C'è la fotografia originale di Pisciotta. E lui dice, l'attore, vedi io qui e lei è uguale, no? E anche l'avvocato Crisafulli avevo trovato quest'attore che gli somigliava a maniera impressionante. Che era Antonio Catania. Vestito e truccato come nelle fotografie era vestito e truccato l'avvocato Crisafulli. E si muoveva e parlava come l'avvocato Crisafulli. Per cui, quando la moglie e i figli l'hanno visto sullo schermo, si sono commossi. Perché hanno visto che c'era stato dietro un lavoro straordinario di ricostruzione della figura del loro congiunto, no? Per cui, ti puoi immaginare, ha avuto anche l'approvazione ufficiale dei parenti, no? Era al massimo certo. A quel punto il Procaci ha una malaugurata idea di far vedere il film al suo avvocato. Tanto è vero che il film era stato selezionato a Cannes e contemporaneamente era stato selezionato a Venezia. Venezia e Cannes se lo litigavano. Io non sapevo nulla, anzi ero al settimo cielo, poi si fa anche a Cannes, si fa il botto, no? A un certo punto parte Cannes e Cannes non c'è. Cazzo, perché non è il film era la Cannes? Allora mi rendo conto che c'è qualcosa che non torna. Infatti Procaci cominciava a non farci vedere, a non farci sentire al telefono, insomma, avevo capito che c'era qualcosa che non funzionava. Allora io non ho fatto storia, sono andato allo stabilimento di sviluppo e stampa, ho stampato una copia del film e personalmente l'ho portata a Venezia al direttore del Festival di Venezia. Perché dico se non faccio così non va nemmeno a Venezia e le ho tirato in tasca alla produzione che avrebbe sicuramente fatto di tutto per non far uscire il film. È andato a Venezia e a Venezia ho fatto il botto, perché ti puoi immaginare, sono stato attaccato da tutti, da destra e da sinistra, soprattutto da sinistra. Quindi il film è avuto quello che ha avuto. Perché da sinistra? Perché da sinistra? Io sono stato addirittura alla CGL a Roma, la segreteria nazionale della CGL, a dire scusate ragazzi, ma se la strage di portata della Ginestra è una strage che vi riguarda. Hanno sparato il primo maggio, giorno della festa dei lavoratori, a dei lavoratori. Non è una storia vostra la protetta della Ginestra. Io ho fatto un film su questa strage, non vogliamo sapere niente di questa storia. Hanno chiuso le porte. Perché? Perché c'era, e ci sarebbe a fare un film su questa qua, una chiusura totale da parte del Partito Comunista contro questa storia. Cioè, fin dall'inizio il Partito Comunista ha fatto di tutto per chiudere i rapporti con questa storia. E qui si entra in rapporto con il film di Francesco Rosi, che è un'altra storia ancora, che troverai su YouTube, dove io faccio tutta una dichiarazione sul film di Francesco Rosi, che racconta la stessa storia, ma da un altro punto di vista. Un aspetto che mi ha colpito, conversando prima, è Visconti, La terra trema, La Sicilia e… Bene, ho scoperto che il film La terra trema di Lucchino Visconti in realtà è un film, avrebbe dovuto essere un film a episodi, a tre episodi. Tant'è vero che il titolo La terra trema non ha nulla a che fare con l'episodio di pescatori, cosa c'entra la terra, se è la storia dei pescatori. E allora ho indagato e ho scoperto che in realtà Visconti voleva fare un film di tre episodi. Il primo episodio era appunto quello dei pescatori, il secondo avrebbe dovuto essere un episodio che riguardava le miniere di Zolfo, in cui lavoravano i bambini, e un caso volle che un terremoto avesse fatto crollare l'ingresso di questa miniera dove sono morte decine di bimbetti che lavoravano nella miniera di Zolfo. E questo era il titolo La terra trema, era riferito a questo secondo episodio, e poi c'era un terzo episodio che era su Portella della Cinestra. Quando Visconti presentò questo progetto al Partito Comunista, a Togliatti, Togliatti disse guarda non se ne parla nulla, te farai soltanto un film su pescatori, perché quello di Portella della Cinestra non se ne parla nemmeno e non lo fai, per motivi politici e per convenienza politica non lo fai. Quello sui bambini chiusi, morti nella miniera di Zolfo non lo fai, perché le miniere di Zolfo sono per metà inglesi e per metà americane, per cui andremo contro i rapporti con l'America, per cui fai solo quello dei pescatori. Ecco come nasce il film La terra trema che parla dei pescatori. E tu dove hai trovato questa informazione così delicata? Ho trovato il trattamento che Visconti aveva scritto con i tre episodi, quello dei pescatori, quello dei bambini e quello ce l'ho tra le carte. E' stato pubblicato nel 1950 in una rivista di cinema nel 1950 e ho ritrovato la rivista. E che si è intervenuto Togliatti come lo sai? Lo deduco, lo deduco dal fatto che non l'ha fatto. E da uno o due in più? Anche perché Visconti e Togliatti aveva un rapporto molto stretto con Togliatti, tant'è vero che quando lui ha girato Gatto Pardo, fu criticato all'eccessiva lunghezza del ballo finale e lui allora da Togliatti gli fece vedere il film e gli disse che devo fare, vuoi che tagli? Quindi il bene Brexit di Balmiro era sufficiente? Ci sono tanti registi che hanno sottoposto, e noi sappiamo bene, alla direzione del Partito Comunista il senso politico ai loro film e hanno avuto dritte e storte. Ecco, vediamo, che ne è oggi del tuo film Segrete di Stato? So che su YouTube, credo che l'abbiano visto diverse, non so quante, ma tante persone l'hanno visto su YouTube, che è l'unico posto dove… Dunque, devo dire che la Fondazione Orcinus Orca di Messina ne ha stampato 3000 copie e le ha distribuito in tutte le scuole della Sicilia, medie, inferiori e superiori. Tanto che l'anno scorso, quando c'era Covid, sono stato raggiunto da una scuola media siciliana, un paesino che si chiama Mirabella, in Beccari, e sono stato tenuto due ore dai bambini di terza media, che avevano visto il film con i loro insegnanti di storia e mi hanno tenuto due ore a fare domande. È stata un'esperienza straordinaria. Cioè, quando gli insegnanti finalmente cominciano a capire che con i miei film possono fare delle lezioni di storia interessanti, succede che poi i ragazzi si appassionano alla storia, a differenza invece di quello che normalmente succede, no? Oddio, domani c'è storia, che palle? Quella ci interroga. Ecco, questo è il rapporto nelle scuole italiane con la storia. Invece la storia è fondamentale. Tutti i miei film lavorano sul principio di ridare dignità alla storia come strumento per capire il presente. Come hai scelto gli attori di Segrete di Stato? Che volevo che fossero tutti attori siciliani. Ho chiesto che le agenzie degli attori mi mandassero foto di tutti gli attori siciliani. La cosa più importante per me era la somiglianza fisica con i reali protagonisti, soprattutto Pisciotta, volevo che fosse credibilissimo dal punto di vista fisionomico. E quando ho visto questo ragazzo che è appunto a fare il provino per Pisciotta, Davide Cocco, subito ho visto che era lui. Ed era talmente per me importante il rapporto con questo attore che io l'ho dato da vedere i miei film. E gli ho detto guarda il cinema che faccio io. Se ritieni che la tua sensibilità si possa sposare con il mio cinema, cioè sono stato io a chiedere a lui, lui questa cosa la lancia nella prima volta a metà mia che un regista mi fa un discorso del genere. Io ho voluto che vedesse i miei film e quando ho visto i miei film mi ha detto sì sì io voglio fare un film con te. Comunque è andato. Grazie per segreti di Stato Paolo benvenuti. Va bene.